Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un videocorso tutto da provare, da provare per noi adulti ma da far provare i nostri ragazzi e ragazze. Possiamo imparare le scienze divertendoci e questa attività basta una app e uno smartphone o tablet, davvero la possono fare tutti perché ci capita di fare una passeggiata in collina, al mare o in montagna e di trovare questi se li consideriamo sassi o queste se le consideriamo pietre, fatto sta che a volte inciampiamo in esse, ci chiediamo cosa siano, che tipo di storia abbiano e così via. Ebbene per sapere un pochino meglio di che cosa stiamo parlando bastano uno smartphone, un tablet e un'app, Rock Identifier, guardate bene il nome, lo state vedendo qui sullo schermo, l'ho testata per voi e la utilizzo su Android, sistema operativo Android, quindi questa app si scarica dal Play Store. Attenzione, è freemium, niente paura, come vedete appena la si avvia compare questa schermata, non vi fate ingannare, non c'è niente da pagare, non dobbiamo toccare prova gratis ma andiamo sulla piccola X in alto a destra perché dobbiamo arrivare qui. A questo punto sfruttando la fotocamera posteriore del nostro smartphone e questa dunque è una bellissima attività STEM andiamo a fare che cosa? Guardate, alzo un attimino il telefono, pulsante in basso rotondo a forma di fotocamera e hop là, inquadriamo. Allora io vi consiglio, vedete ho messo anche un pezzo di carta ecco sul tavolo per far risaltare la pietra, in questo caso è scura, la foto come vedete la facciamo sul lato migliore, ho toccato una volta al centro per poter in qualche misura mettere a fuoco, andiamo a toccare il tasto rotondo e attendiamo la identificazione. Cosa è successo? Allora in questo caso il sasso è stato subito riconosciuto e quello che abbiamo in mano è un pezzo di ematite da grigio acciaio a nero, cristalli e minerali massicciamente cristallini, abbiamo tutta una descrizione con anche eventuali rischi per la salute, altre pietre similari, la foto viene in qualche maniera scontornata, ripulita e se io con un tocco dico aggiungi alla mia collezione vado poi a lasciare il nome del minerale che viene proposto, a togliere con la X piccolina la foto originale scattata, tengo quella elaborata, migliorata da Rock identifier, per non dimenticarci possiamo aggiungere la località dove abbiamo reperito il minerale, le note se vogliamo, un tocco su salva e a questo punto abbiamo aggiunto alle nostre collezioni questo minerale. Insomma un'applicazione veramente semplice da utilizzare con la freccina in alto a sinistra, torniamo come vedete alla nostra collezione se così la vogliamo chiamare ed ecco un'attività semplice ed istruttiva che poi possiamo riscontrare con ulteriori ricerche, con ulteriori foto e con approfondimenti perché anche la migliore delle app può sbagliare ed è sempre bene fare un controllo accurato. Non è necessario registrarsi per usare Rock Identifier, quindi a voi la prova, anche se vi trovate magari in vacanza, fatemi sapere che ne pensate e un grande saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Ciao!